rieccoci qui cari amici sempre in maniera flash veloce parliamo questa volta dell'italia maggiore dopo che ieri l'ander 21 battuto l'irlanda pisa per 2 a 0 italia olanda questa sera in diretta su rai 1 rai 1 a caldino alle ore 20 e 45 da la fonte da cui apprendo schieramento per l'italia potrebbe essere un 4 3 3 donna roma d'ambrosio bonucci chellini spinazzola barella georginio verratti chiesa immobile pellegrini per l'olanda 4 2 3 1 ciless nate burde vrai vangic blind van de beck de jong bergwis wijnaldum promes de pai per quanto riguarda la classifica è ovvio dire che è ovvio insomma prima al momento siamo proprio noi l'italia 5 punti seconda l'olanda insieme alla polonia 4 bosnia zegovina 4 a 2 quindi qui c'è tantissimo equilibrio che dire sintonizziamoci tutti questa sera alle ore 20 e 45 ma anche magari 20 e 35 20 e 40 su rai 1 rai 1 hd grazie a voi tutti buona partita per stasera e ciao